pace e bene cari fratelli e sorelle benvenuti siamo giunti alla venticinquesima domenica matteo 21 16 la parabola degli operai chiamati a diverse ore dal padrone che secondo alcuni biblisti racchiude un po in nuce tutto il vangelo ovvero l'offerta della salvezza ad ogni uomo nell'entrare in questo testo teniamo anzitutto conto di una cosa che qui gesù non sta parlando astrattamente dell'assenza di una qualsiasi retribuzione o del fatto che in cielo saremo comunque tutti uguali dunque aver servito non aver servito dio tanto o poco che tu abbia fatto sia la stessa identica cosa no sappiamo bene che in cielo saremo tutti santi tutti beati pienamente immersi in dio ma ciascuno nella misura in cui gli avrà aperto il cuore santa teresina nella sua semplicità faceva un esempio luminoso diceva pensate alle diverse anime come a diversi bicchieri c'è il bicchierino piccolo c'è il bicchiere più grosso c'è la brocca la caraffa ecco immaginate tutti pieni fino all'orlo quindi tutti pieni ma ognuno nella sua misura così saranno i santi chiaro che lo splendore del buon ladrone sarà altro dallo splendore di san francesco d'assisi che è stato alter christus ecco qui non si parla di questo in questa parabola si parla del fatto che ora qui sulla terra gesù è venuto a portare il regno di dio dunque dio viene a regnare ora nei cuori di chi lo accoglie dio chiama tutti a sé chiama tutti a incontrarlo chiama tutti a stare con lui e lavorare per lui li chiama a tutti e a tutti offre se stesso offre il suo amore offre la salvezza a ogni uomo entriamo nel testo abbiamo questo padrone che chiama diverse ore appunto gli operai si accorda soltanto con i primi quelli che chiama la mattina per un denaro il giusto la paga quotidiana è necessario per vivere man mano questo padrone esce anche colpito dalla situazione di tanti disoccupati senza lavoro lì che ozziano chiama anche loro allora non dice quanto darà dice solo vi darò ciò che è giusto uno si aspetterebbe secondo la nostra logica umana che è arrivato a fine giornata dia progressivamente di meno a tutti esempio se io chiamo uno a lavorare per me la mattina di quartilo per questa giornata 80 euro 100 euro non so sparo numeri uno che aspetta che se do lavoro a uno dalle due pomeriggio alle 5 gli darò di meno la sorpresa viene appunto alla fine quando il padrone chiama per primi gli ultimi e dagli ultimi la stessa paga dei primi capite bene qui il problema non è che il padrone è ingiusto verso i primi coloro si è accordato per la paga giusta della giornata il punto che il padrone generoso verso gli ultimi da anche a loro una paga piena c'è la paga del giorno cioè il necessario per vivere a questo punto insorgono i primi e dicono come abbiamo lavorato la giornata e tu dai la stessa cosa anche a loro era qui giustamente la risposta del padrone ma scusate non è che forse voi siete invidiosi perché io sono buono ecco qui cerchiamo di capirci un po anzitutto gesù si sta rivolgendo con questa parabola questi che si sentono primi se lo vediamo alla luce della storia della salvezza i primi che dio ha chiamato sono quelli del popolo di israele a cui ho offerto l'alleanza con lui questi che si sentono primi rappresentati dai farisei dagli iscrivi dagli osservanti della legge quindi si sentono in un certo modo quelli bravi quelli beneficiari dei doni di dio quelli a cui è spetta un trattamento riservato vedono che invece gesù sta offrendo la comunione con sé la salvezza l'accesso al rapporto con dio a tutti quanti allo stesso modo e quindi guardano con avversione gesù questo problema c'è stato anche nella chiesa delle origini quando quando i cristiani che provenivano dal giudaismo guardavano distorto quelli che arrivavano dal paganesimo quelli che prima erano giudei che quindi si sentivano gli ereditari pieni della salvezza vedevano che diventavano cristiani cedevano alla salvezza alla comunione con dio ai ministeri e servizi quelli che fino a ieri erano atei pagani non conoscevano dio purtroppo questa mentalità malata e ancora ce l'hanno molti cristiani al giorno d'oggi e lo vedo senti quando persone che magari camminano da un po di tempo sono diventati ormai delle suppellettili della chiesa per cui ostacolano la visuale ma anche l'accesso all'incontro con dio da quelli che erano lontani da quelli che dicono ma come questo incarico aspetta a me perché io sono da qui da più tempo ma arriva quello pensa di far lui e che quindi guai a chi li tocca la poltrona oppure quando senti ragionamenti assurdi tipo ma mica giusto che quello lì è l'ultimo si converte si salva e uno invece tutta la vita serve il buon dio ecco chi ragiona così ci ha capito niente cerchiamo di smontare un po questi ragionamenti anzitutto chi ragione dice ma alla fine che me ne è venuto a me se poi uno si converte si salva fa una grave offesa al signore nel libro del profeta malachia il signore dice duri sono i vostri ragionamenti contro di me perché andate dicendo a cosa ci è servito allora servire il signore osservare i suoi comandamenti come cosa ci è servito ci è servito e come perché un conto è aver incontrato e amato il signore aver avuto in noi la sua luce aver vissuto in comunione con lui aver avuto la gioia di poter fare la sua santa volontà di poterci mettere a servizio della salvezza e del bene degli altri un conto e non averlo incontrato un po' immagini di questi disoccupati del vangelo ma pensate già a livello umano chi è più felice uno che lavora uno che non lavora uno che non lavora è uno che uno ha una preoccupazione per il sostentamento suo e della famiglia due si sente frustrato e irrealizzato perché non fa nulla quindi altra la gioia di poter lavorare altra la gioia di essere disoccupato altra ancora di più dunque è la gioia di aver incontrato il signore aver lavorato per lui altra è la frustrazione per una vita vissuta al buio vissuta soltanto per se stessi per servire se stessi o il ristretto raggio delle persone amiche o legate da interessi a sé se poi uno ragiona così è perché vive il suo rapporto con dio come un freddo dovere come un peso da così da portare avanti come una relazione non con un padre che ti ama ma con un peggio di un datore di lavoro di un dio retributore al quale tu offri i tuoi servigi per avere in cambio la sua protezione siccome tu offri i tuoi servigi religiosi i tuoi servizi e tutto sommato ti meriti pure che dio ti dia e dunque vivi questa fede così dove alla fine più che amare il signore ami il tuo torna conto e pensi di essere salvo per le tue opere per la tua giustizia e non hai incontrato la gratuita misericordia di dio che ti salva quindi ci rendiamo conto che già c'è da aprire molto il cuore per chi purtroppo vive così la sua fede un po come il figlio maggiore della parabola del figlio il prodigo che guarda con occhi torvi il fratello ritornato dice ma quello sarà da spassare invece so qua che devo vivere a casa tua osservo tutte le regole c'è non me posso divertì mai e quello invece ha fatto come ha voluto ecco vivere male proprio il rapporto con dio peggio ancora perché pensi che chi ha vissuto una vita nel peccato ci sia tutto sommato pure divertito quindi c'è un altro inganno cioè pensare che stare nel peccato sia bello godereccio quello si diverte fa quello che vuole io poveraccio credente che devo invece seguire questo mattone non ho capito che invece fare la volontà di dio è liberante e mi rende veramente pieno e capace di amare e vivere in eterno quindi uno che dice mica è giusto che uno si salva all'ultimo momento invece sì che è giusto speriamo anzi che all'ultimo istante almeno apre il suo cuore alla salvezza perché vuol dire che non si è perso che non si è che non ha corso il rischio di dannarsi che ha incontrato la luce dell'amore di dio che è salvo ecco santa teresina offri tre giorni di preghiere digiuno per un condannato a morte e quando vide nel giornale che all'ultimo istante aveva voluto baciare il crocifisso piena di gioia esclamò è salvo la gioia per la salvezza degli altri uno non è neanche detto che si possa convertire all'ultimo istante perché se uno si fa i fatti suoi non è detto che abbia la luce e il tempo per aprire i suoi occhi e affidarsi al perdono di dio almeno all'ultimo istante quindi doppiamente c'è da sperare se questo accade che dio sia benedetto e comunque vada anche se uno incontra il signore da una parte esulti ma dall'altra poverino però perché perché avrà potuto godere solo per pochi istanti di questa luce della bellezza del rapporto con dio dopo una vita vissuta invece al buio cosa si è perso purtroppo quanta bellezza del poter servire il signore e il nostro prossimo allora chiediamo al signore questa grazia che questa parabola ci spinga la conversione perché perché chi è ultimo chi è lontano scopra che può non essere più ultimo che dio anzi è venuto proprio per lui e anche a lui offre il suo perdono la sua vita la possibilità di ricominciare il dono di una vita nuova e non perché non te lo meriti o te lo meriti perché dio è buono e generoso e amore gratuito e per chi si sente primo che apra gli occhi prima che si trovi come minimo ultimo e scopra che se va avanti non è per i suoi meriti ma è per la grazia per la misericordia di dio e che così ci renda attrattivi sapete un autore spagnolo bernanos e nell'opera i grandi cimiteri sotto la luna mise sulla bocca di un ateo queste forti parole voi credenti non vi interessate degli scettici ma gli scettici si interessano di voi quando uscite dal confessionale voi siete in stato di grazia eppure esso non appare ci domandiamo cosa ne facciate della grazia di dio non dovrebbe raggiarvi dal viso dove nascondete la vostra gioia ecco che il signore ci aiuti invece a testimoniare questa gioia del saperci gratuitamente amati perché mentre l'uomo ragiona per equivalenza dio ragiona per eccedenza che quest'amore enorme eccedente di dio davvero inabiti i nostri cuori pace e bene a tutti